Benvenuti miei cari make up lover in questo nuovo video lei è la mia cucciolotta tundra e come vedete è impegnata con i suoi giocattoli vi faccio vedere come è cresciuta adesso è circa 52-53 cm al garese per 16-15 kg circa e come vedete io le ho messo un collare di sicurezza questo si estrae adesso poverina sta giocando l'edofastidio però si estrae l'ho pagato circa 8 euro su Zooplus questo è un osso che ho preso sullo stesso sito circa 4 euro il suo gioco preferito perché sta cambiando i denti quindi sta finendo e gli piace tantissimo l'altro giocattolo più usato è la radice di caffè e poi gli ho preso un tetraedro dentro una pallina è di gomma, ci infile il muso, prova a schiacciarlo a prendere la pallina allora in questi mesi devo dire che è stato molto molto difficile sopportare il cambio dei denti perché morde tutto può essere un po' utile lo spray repellente per i battiscopa, i tappeti perché sono le prime cose che purtroppo prende perché ha fastidio ai denti spesso o anche solo per giocare, per sfidarvi perché essendo cani molto intelligenti loro proveranno a sfidarvi in tutti i modi con tutti i giochi possibili, con tutte le sfide possibili praticamente e che dirvi al guinzaglio se è ben abituata al passo perché lei in questo caso sente la mia andatura si adegua molto bene e bisogna ogni tanto contenere se per caso nell'erba sente qualche lombrico, lumaca l'animaletto, bisogna un attivino tenerla se per caso ha qualche scatto improvviso ma succede molto raramente perché chiaramente lei gioca e prova a prendere quegli animaletti e devo dirvi che sono cani molto molto affettuosi perché alla sera vi dico prima di andare nella sua cucetta perché c'è il letto e poi a 4 metri di distanza c'è la sua cucetta gliel'ho messa lì non ho messo un kennel ma ho messo la cucetta perché nel kennel faceva troppo rumore che si girava la notte allora ho provato solo la cucetta e funziona abbastanza quindi non giro non fa cose strane sta lì nella sua cucetta e basta lei cosa fa prima di dormire? ti dà una leccatina sul braccio e poi se ne va nella cucetta oppure sdraia sul pavimento adesso che fa caldissimo anche perché in questo periodo a parte che sta cambiando molto il colore perché sta diventando più grigia prima era più rossiccia soprattutto sulle orecchie mentre invece sta diventando più rossa nel bordo esterno della zampa e vi posso dire che come grammi da mangiare di cocchette mangia circa 90 grammi al giorno ma dipende sempre dalla vostra marca di cocchette o se fate la barf dovete contare le calorie e le quantità e vi dico come vedete i canini sotto li ha cambiati quelli sopra invece sono spuntati doppi e sto aspettando che cadano quelle sopra come vedete è veramente in trip per questa radice di caffè in questo momento per questi legni insomma e bisogna essere un po' scaltri sui giocattoli da adottare perché come vedrete non tutti sono adeguati per lei io vi mostro alcuni esempi che magari possono essere adatti per i vostri cani lupici e coslovacchi allora fino ai quattro mesi la ciabatta di Primark è andata benissimo ultimamente adesso nel quinto mese ha usato molto il peluche delle Pringles perché si è adattata anche a giocattoli più morbidi oltre che quelli duri come anche il latte di yak che ne ha fatto fuori un sacco di barrette adesso non lo guarda quasi più e questi sono i giocattoli dimenticati diciamo che principalmente adesso che è alla fine del quinto mese perché tra quattro giorni farsi i mesi ha abbandonato questi giocattoli non sono di suo gradimento un'altra cosa che adora ma che non vedete in questo video sono le corde mi piacciono tantissimo tantissimo soprattutto prima di andare a nanna infatti lei ha il peluche prima di andare a dormire praticamente è un osso con all'estremità due cordicelle da tirare e questo è il cane lupo allora lei scende circa quattro cinque volte al giorno anche perché io lavorando non sono sempre sempre presente però cerco di portarla anche al parco dei cani il più possibile adesso che sono un attimo in pausa la porto tutte le mattine o tutti i pomeriggi al parco dei cani per farle sgranchire le zampe e socializzare ricordiamoci che socializzare è importantissimo per questi cagnoloni come carattere è praticamente la vostra ombra perché vi segue e se per caso non vi segue a ogni minimo movimento che fate tira su le orecchie apre gli occhi e vi segue praticamente dopo quindi è come se fosse la vostra diciamo preda padrone ecco una cosa così ma voi dovete assolutamente contenerlo e farvi rispettare come ruolo di capobranco perché cercherà sempre di mettere i piedi in testa per testarvi ma voi non fatevi scoraggiare assolutamente fatevi rispettare io per portare la passeggio utilizzo una pettorina e utilizzo un guinzaglio che ha la catena ecco utilizzo esattamente questo oggetto preso ad Arcaplanet 12 euro circa è una catena pesante la pettorina questa pagata 15-20 euro perché ho usato la catena perché ho provato tutti i tipi di guinzaglio di stoffa o di plastica o gomma o nylon e tutti i materiali praticamente anche solo per gioco li mordeva oppure quando noi usciamo lei ha il vizio a volte di prendere il guinzaglio con la bocca strattonarlo e quindi con i denti lo rompe e visto che ne ho già rotti sei ho detto proviamo con la catena di acciaio allora questa catena assolutamente non le fa male ma mi permette di direzionarla meglio perché essendo più pesante percepisce meglio anche la direzione da tenere ma comunque ha imparato a memoria i percorsi perché adesso lei tra 4-5 giorni compirà 6 mesi quindi ce l'avevo qua da 2 e sono 4 mesi che facciamo praticamente sempre gli stessi percorsi le stesse vie ma nonostante tutto lei ha sempre voglia di annusare scorazzare vedere l'ambiente è sempre un cane molto allegro molto attivo insomma un cane annusatore molto molto vivace e di questo ne sono contenta che non ne soffra la routine perché invece con i giocattoli soffre la routine magari dopo 2-3 giorni non li guarda neanche più insomma deve trovare i suoi preferiti una volta che ha trovato i suoi preferiti a quel punto la routine può essere spezzata per quanto riguarda l'educazione e l'addestramento va molto bene perché sa i comandi basici di siediti fermo resta terra il suo nome il richiamo vai vieni esci prendi snack insomma sa tutte le parole basiche che non sono tantissime ma neanche pochissime e quindi a 6 mesi credo che sia il minimo da imparare tra poco sono 6 e adesso lei non ha lezione di 10 la faremo proprio oggi e in questo addestramento abbiamo imparato i comandi basici appunto del siediti terra lo stare a tavola il non saltare sui mobili e quindi è stato un bel percorso abbastanza lungo costoso assolutamente però ne è valsa la pena assolutamente perché chi non ha esperienza chi vuole fare un buon lavoro chi ha la possibilità assolutamente possa affidarsi a un addestrattore cinofilo perché sono cani testoni sono lopoidi infatti quindi è bene imparare a conoscere anche proprio il carattere del proprio cane perché l'adestratore ti aiuta e ti insegna a conoscere il tuo personalissimo cane e quindi devo dire che sono stati soldi ben spesi però insomma anche chi fa la propria il proprio percorso senza addestratore perché già li conosce buon per lui assolutamente allora per i denti lei ne ha persi un bel po' quasi al 70-80% che ha terminato è ancora nervosa perché sta terminando i canini superiori e la parte degli incisivi centrali quindi morde 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 però bisogna assolutamente insegnargli a non mordere le persone prima di tutto quindi bene socializzarla molto bene farne usare le persone disposte chiaramente se hanno paura assolutamente non fate toccare il cane e evitate quella persona è tranquillizzato il cane soprattutto perché potrebbe essere spaventato a volte sono cani molto schivi e tendono a scappare e non si lasciano carezzare facilmente perlomeno parlo della mia e nonostante sia molto socializzata è proprio nel loro carattere perché ripeto sono lupoidi per il resto io gli do la pappa nella ciotolina facendole fare i comandi nel frattempo quindi gli do un po' di crocchette il comando crocchette comando crocchette comando e se per caso inizia a mordere mobili insomma a fare cose non gradite e anche a volte pericolose come mordere dei cavi oltre a scacciarli subito se per caso non dovesse esserci gli spray repellenti sono il meglio ma soprattutto per le vostre ciabatte i vostri piedi perché non so quello che ho comprato è di citronella e quindi fa tenere il cane a distanza piuttosto mordi il giochino mordi il latte di yak ma non mordermi i piedi e le ciabatte perché adesso i dentini anzi i dentoni fanno male nonostante lei dosi la forza perché è stata brava nel farlo ma si sentono comunque perché sono denti grandi fortissimi insomma quindi bisogna farci assolutamente attenzione ripeto che visto che il cane pesa sui 15-16 kg circa bisogna avere degli strumenti forti e adeguati per uscire quindi pettorina o collare adeguati perché possono avere questi scatti di agilità a volte ma per la distrazione di inseguire ad esempio una farfalla sentire l'ombrico per terra qualunque animaletto o anche solo la curiosità di annusare una persona allora intanto lei è spaventata dalle bici dai bus dai furgoni ma anche solo per lo scoppio del rumore quando si accende il motore oppure della pedalata in bici perché è un cane molto 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 sensibile e schivo e quindi io sto sempre sul bordo del marciapiede e la tengo sempre nella parte interna bisogna fargli imparare a camminare nella parte perlomeno interna perché è meno pericolosa e se dovesse fare uno scatto lei può essere al sicuro quindi il cane non si fa male e anche noi siamo più tranquilli poi per farla correre saltare giocare tutto il resto anche la pallina e il riporto si possono appunto fare tranquillamente nel campo dei cani come vi ho detto già poi qua io ho lasciato il kennel ma per un semplice fatto che a volte possono essere cani molto esuberanti e quando si vuole provare a distogliere l'attenzione da una cosa ad esempio lei prova a mordermi per forza tutti i costi i piedi o le ciabatte perché gioca chiaramente e solo che lei è una testona e non vuole smetterla inizia ad abbaiare contro e visto che ma per protesta non è un abbai o ringhioso è proprio un abbai di protesta proprio così continuo e visto che non si può tollerare questa mancanza di rispetto bisogna assolutamente metterla nel kennel, questo è quanto ci ha detto la destratrice noi stiamo proseguendo facendolo, lei si calma, quando è calma la facciamo sedere e la facciamo uscire dal kennel, sono cani che devono essere seguiti ed educati costantemente allora io adesso ogni tanto la faccio salire sul divano ma non è sempre così perché come vedete mi ha fatto tutte le macchie di saliva ma anche perché non è igienico a parte quello e non è il suo posto proprio perché lei la cucetta ce l'ha ed è lì sotto insieme agli altri giocattoli, solo che adesso gli ho permesso di salire per fare anche il video e per usare i tre giochi principali che volevo farvi vedere io spero che sia tutto chiaro perché adesso da quattro giorni compirà sei mesi sto facendo i video ogni due mesi per farvi vedere anche come cambia e devo dirvi che sono cani assolutamente ma assolutamente intelligentissimi prontissimi a scattare per voi super super coinvolti nella vostra routine quotidiana molto fedeli ma molto molto difficili da addestrare nel modo giusto e da prendere come carattere perché essendo molto intelligenti proveranno a farvene di ogni ma proprio ogni marachella possibile tipo prendervi qualunque fazzoletto qualunque pezzo di carta qualunque cosa che riesca a trovare quindi bisogna prestarci estrema attenzione devo dire che ha smesso un po' di mordicchiare il latte di yak in favore di questi giocattoli io adesso qua non ce l'ho perché ce l'ho nell'armadio però è un osso forse si chiama playdog qualcosa di simile è un osso rosso stilizzato che suona schiacciato e costa 20 euro 25 circa è al sapore di manzo dicono e posso dirvi che ultimamente sta smettendo di prendere cuscini carta cose da sopra i mobili per concentrarsi di più sui giocattoli perché la vedo proprio cresciuta ok un salutino un salutino alla telecamera ok e usciamo di scena